Volevo solamente aggiungere che adesso senza entrare nel merito di questa proposta che è tutto sommato abbastanza tecnica, continuo a invitare l'assessore come già fortunatamente stiamo facendo in commissione a impostare un lavoro che sia di ampio raggio ondevitare che come ci si è trovati davanti a dei potenziamenti di strutture, reparti, ospedali, insomma argomento che abbiamo già trattato, altresì si crei un programma di investimenti regionali in modo tale che le risorse comunque vengano ottimizzate il più possibile. Quindi invito ancora l'assessore a confrontarci in merito a questo riordino del settore, sia per quanto riguarda il settore ospedaliero, il discorso ospedaliero, sia anche per quanto riguarda proprio l'informatizzazione della sanità che comunque è molto importante affinché a livello regionale non più di singole asle piuttosto che di aree vaste si abbiano tanti piccoli sistemi diversi che a nostro parere vanno a inficiare quella che è l'efficienza, l'efficacia e anche l'ottimizzazione delle risorse. Grazie.